Buonasera a tutti. Penso che possiamo dare inizio al Consiglio Comunale. Grazie. Grazie a tutti. 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 Un nostro concittadino di nascita è una persona che ha svolto una funzione molto importante all'interno all'interno del santuario dell'amadone dei fiori e lascia un vuoto veramente incolmabile. Grazie al Sindaco per associarmi alle condolianze nei confronti delle molte persone che ci hanno lasciato purtroppo alcune anche prematuramente, in particolare ancora condolianze da parte mia e dell'intero Consiglio all'amico Consigliere Marco Elena per la perdita della cara mamma. Come ha detto bene il Sindaco, il 19 luglio ci ha lasciato il Don Sergio Boarino. Boarino era della classe 1942, era nato a Bra e dopo aver affrontato tutti gli studi presso il seminario di Torino, era rimasto poi molti anni in seminario, prima come responsabile delle vocazioni e poi addirittura come rettore del seminario maggiore. Quindi sotto la sua guida moltissimi giovani della Diocesi di Torino sono diventati sacerdoti. E la dimostrazione più grande del suo ruolo e del suo impegno a favore della Diocesi l'abbiamo avuta il giorno dei funerali, quando erano presenti oltre al Cardinale Poletto sei vescovi, tutti di origine della Diocesi di Torino, e ben quasi, anzi forse di più, un centinaio di sacerdoti. Una manifestazione e un funerale veramente molto imponente e molto solenne. Don Boarino era un fine intellettuale, che era un teologo molto profondo, che univa ad una dimensione pastorale molto attenta anche una grande preparazione culturale. Le sue realizzazioni in sei anni in cui è stato rettore del santuario, anche se gli ultimi sono stati purtroppo caratterizzati da quella grave malattia che poi lo ha condotto alla morte, sono state veramente importanti. Su tutte ricordo il grande mosaico che è stato realizzato sulla facciata del Sant'Ario Nuovo, con la collaborazione, anzi, sotto la regia e la professionalità dell'artista, il gesuita padre Rupnik, che è stato a Bra alcuni giorni con la sua equip e che ha realizzato questo imponente mosaico. Senza dimenticare poi l'apertura del piccolo museo che è nei locali attigui al Sant'Ario Nuovo, il completamento, l'abbellimento dell'oratorio e poi anche altre molte iniziative legate alla solidarietà del quartiere e in generale anche della nostra città, iniziative che lo vedevano sempre molto presente, ma dato il suo carattere, il suo temperamento, una presenza molto discreta e molto umile che non voleva mai apparire. Ecco, questo è uno dei ricordi più belli che io, anch'io, ho avuto l'onore di essere suo amico, anche collaboratore in certi momenti della vita culturale del Santuario e ci porteremo sempre dietro questa sua signorelità di fondo e questa sua discrezione, ma che era tutt'altro che disattiva, era una discrezione di un signore, ecco, che sapeva intervenire al momento giusto, con le parole giuste e con i gesti giusti. E proseguiamo allora con la comunicazione, mi pare che ci siano ancora alcune comunicazioni, quindi lasciamo le comunicazioni, poi dopo io vi propongo poi la modifica della scaletta dei lavori. Consigliere Gemma, prego. Ah, chiedo scusa, c'era qualcuno che voleva... non ho visto mani alzate. Consigliere Gemma, prego. Grazie Presidente, grazie Sindaco. A nome della maggioranza desidero fare una dichiarazione di solidarietà alle vittime e netta condanna ai tanti ormai troppi episodi di violenza che si stanno perpetrando in tutto il Paese. Non ultimo l'aggressione ad un atleta della nostra nazionale, colpita ieri sera mentre rincasava nella città di Moncalieri. È razzismo che non distingue chi è cittadino italiano o meno, che si scatena solo perché alcuni esseri umani hanno la pelle di un altro colore. Sconcertante l'arroganza dilagante di giustizia fai da te, a volte con soluzioni estreme. In un clima di cieca intolleranza è ancora di più sconcertante il minimizzare o sottovalutare gesti di chiara matrice razzista. Fanno rabbrividire la troppia volenza, i troppi insulti e la troppa cattiveria che invadono la quotidianità e non di meno i social media. Credo sia arrivato il momento della netta condanna di questa delirante e deleteria situazione. Bene, non aspettiamo per poi chiederci ma io dov'ero quando tutto questo succedeva. Concludo appunto con questa domanda. Grazie a tutti. Grazie consigliere Gemma. Aveva chiesto anche la parola al Vice Sindaco per una comunicazione, prego. Sì, una comunicazione brevissima ma ci sembrava opportuno farla questa sera perché è di venerdì la notizia che in relazione al ricorso presentato dalla ditta seconda classificata nell'appalto riguardante la riqualificazione degli impianti sportivi, il TAR anche in ragione dell'annuncio in udienza della presentazione di un ricorso incidentale da parte della ditta prima classificata nei confronti della seconda ha sospeso la giudicazione rinviando la valutazione di tutti i motivi di merito nell'udienza fissata il 6 novembre. Questa vicenda pertanto produce alcuni risultati, il primo è che con la via giudiziaria viene cancellata la finestra temporale estiva per la realizzazione dell'OPA perché come potete immaginare è un intervento che ha bisogno di essere realizzato nel periodo estivo, in particolare la pista di atletica, il rifacimento della pista di atletica necessita di temperature particolarmente calde e dovendo aspettare il 6 novembre il pronunciamento definitivo quest'opera purtroppo quest'anno non può essere realizzata. La sentenza determinerà chi dovrà essere la ditta giudicataria dei lavori essendo attualmente in presenza di due ricorsi, come dicevo prima, del secondo contro il primo e del primo contro il secondo. Al di là degli aspetti legali e giuridici su cui non esprimiamo nessun giudizio perché ovviamente non spetta a noi farlo, esprimiamo ovviamente rammarico rispetto a questa situazione perché credevamo fosse assolutamente fondamentale, abbiamo investito un'importante parte del bilancio comunale per quanto riguarda le opere del triennale rispetto a quest'opera che ovviamente si ferma per questioni che non stanno in capo all'amministrazione ma che sarà assolutamente riproposta nel prossimo triennale e realizzata nella prossima primavera. Però ci sembrava opportuno qui questa sera comunicare a questo esito di questa sentenza. Grazie. Grazie all'assessore Borrelli. Consigliere all'Asia, prego. Grazie Presidente. Volevo innanzitutto associarmi alla ferma condanna contro gli episodi di violenza nei confronti di cittadini o residenti italiani nel nostro territorio, nelle modalità che sono state descritte dalla collega consigliera. C'è un clima sociale e culturale che effettivamente fa molta paura e penso che le istituzioni statali e le amministrazioni pubbliche dovrebbero essere responsabili nel confronto dei messaggi che vengono che vengono divulgati al pubblico perché c'è un dovere di mantenimento della pace sociale e di ispirazione per livelli culturali e sociali di più alto livello e non c'è bisogno di spinte verso il basso. Un'altra comunicazione invece volevo fare, mi permetta Presidente, riguarda l'attività di questo Consiglio e spiego meglio, non è che mi voglio sostituire assolutamente al Presidente, ma volevo porre all'attenzione del Consiglio un problema che riguarda l'attività all'interno del Consiglio e in particolare mi riferisco al fatto che ormai da moltissimo tempo, e ne approfitto perché è presente, perché così diventa più chiaro il manifesto, in particolare un consigliere comunale non può partecipare all'attività consigliari, ormai siamo quasi, siamo oltre un anno e mezzo, siamo verso i due anni. Qualche mese fa avevamo chiesto ed era seguito il passo di dimissioni da Presidenza di una commissione del predetto consigliere, consigliere Bergese, e pensavamo che questo passaggio fosse occasione di un'ulteriore riflessione, perché effettivamente non c'è più una presenza, non c'è più alcuna presenza, nessuna attività consigliare, e questo sinceramente d'esta in me preoccupazione, da una parte perché già i consigli comunali si sono ridotti come numero con le recenti riforme, e in più lo stesso gruppo consigliare di cui fa parte è costretto a deleghe per sostituire la funzione del consigliere. So bene che il regolamento prevede la decadenza da consigliere sotto determinati limiti di presenza esclusivamente per il consiglio comunale. Ritengo però che sia doverosa una riflessione, io sollecito questa riflessione e sollecito anche lei Presidente ad avviare una riflessione con il consigliere, perché ne viene a documento l'attività del Consiglio stesso, delle commissioni consigliari in cui è presente questo nostro collega. Tra l'altro da regolamento sarebbe stato anche possibile pervenire da parte di chi è impossibilitato a una funzione di sospensione dell'attività consigliare per un periodo limitato, però nel caso in cui un consigliere sia impossibilitato per un tempo, mi pare, di tre mesi, se ricordo bene. In questo caso siamo quasi alla soglia dei due anni, ritengo che sia giusto fare una riflessione in questo senso e non potendo e non essendoci estremi né per fare e non avrebbe senso, insomma, interrogazioni, emozioni non avrebbero alcun senso, volevo stimolare la riflessione in questo senso. Non c'è ovviamente nulla di personale e le attività professionali che obbligano il consigliere a essere assente mi auguro che siano di viatico per un futuro brillantissimo e per una vita piena di riconoscimenti e di soddisfazioni dal punto di vista professionale, penso che sia giusto scindere i tempi se non c'è la possibilità di svolgere l'attività politica all'interno di questo consiglio, sia giusto prenderne atto. Tanto più che quasi ormai un anno fa lo stesso partito del consigliere ha sostituito la funzione che svolgeva questo consigliere all'interno del suo circolo, qui braidese, esattamente con lo stesso, immagino, rispetto per l'attività del proprio movimento politico, del proprio partito, ci sia stata una riflessione che, gradirei, fosse anche ripetuta per il nostro consiglio. Per questo chiedo sommessamente a lei, Presidente, veramente di, adesso si apre un periodo di vacanze, insomma, di aprire una riflessione per valutare, insieme al consigliere, il senso di proseguire in queste condizioni l'attività consigliare, piuttosto che lasciare spazio a qualcuno che ha la possibilità materiale di lavorare per il consiglio e per il proprio gruppo consigliare. Grazie, Presidente. Io prendo atto della sua richiesta, quindi garantisco che, sulla base di quanto dice il regolamento, sulla base anche di una sorta di, non diciamo giustificazione, perché non devo essere io a giustificare il consigliere che lei ha citato, ciascuno ha la propria capacità, la propria possibilità, ma sulla base anche di, la necessità di tenere conto di tante realtà, di tante sfumature, con grande serenità avvieremo anche a questo tipo di, quindi raccolgo la sua legittazione nel modo e nella misura in cui tutto questo sarà possibile. Ha chiesto la parola il consigliere Bergesio, prego. Non voglio aprire la polemica con un elemento legittimo che, insomma, una riflessione che pone. Credo che fare una riflessione su un campo, così, diciamo, a tutto campo, sull'attività a 360 gradi sia, che lei abbia alcuni elementi parziali, credo che si possa svolgere l'attività con un elemento di contenuto forte, che le esperienze professionali possono portare degli elementi di valore all'interno di una comunità. Sono cose diverse, il Consiglio Comunale, rispetto ad altri incarichi, e si possa interpretare diversi ruoli in diverso modo, tanto che c'è un regolamento che parla, chiaramente, di questa cosa. Non è né una giustificazione né nessun altro tipo di elemento. Per me è una riflessione che è avviata e finché mi riterrò in grado di portare un elemento di valore in questo Consiglio Comunale di contenuto rispetto all'attività che faccio, che è sul bordo di quello che stanno facendo le aziende in Italia per poter rimanere in vita dell'innovazione digitale. Credo che sia un elemento che serve a 360 gradi, finché credo, crederò, che questo elemento di valore possa essere un elemento che porta un elemento in più, credo che appunto la situazione vada valutata in questo senso. La ringrazio comunque per la sollecitazione, vorrei anche ringraziarla per un altro elemento rispetto al discorso che faceva, e che è l'onestà intellettuale. Molte volte abbiamo avuto posizioni discordanti. Sono lieto di aver sentito da lei la totale apertura rispetto alla lettera della collega Evelina Gemma. Mi duole però ricordarla che il suo partito in questo momento sostiene il governo che più di tutti sta fomentando il clima d'odio latente di questo Paese e che ne è, e sono d'accordo con lei, è preoccupante. La invito, dato che abbiamo toccato la sfera politica, ad agire nei luoghi e nei modi che la politica mette a disposizione, piattaforme, non lo so di cosa vi dotate per poterlo fare, affinché alcuni di questi elementi cambiano, con una forte presa di responsabilità da questo punto di vista, perché è difficile portare emozioni sullo Jussoli e al tempo stesso avere il Ministro dell'Interno con un Presidente del Consiglio espresso dal proprio partito che chiude i porti a navi in difficoltà. Quindi, dato che abbiamo aperto, insomma, anche una riflessione più ampia, questo è il mio invito. Grazie. Allora, a scansio di equivoci, le questioni sono state aperte, ma poi sono state chiuse e qui si chiude, perché non ci sono spazi al dibattito. Il Consigliere all'Asia ha fatto una sua, dal mio punto di vista, legittima riflessione, lei ha risposto altrettanto legittimamente, punto, non c'è dibattito su queste comunicazioni. Grazie, comunque, Consigliere Bergesio. Consigliere Tripodi, prego. Grazie, Presidente. Il nostro gruppo vuole unirsi in questo momento alle parole di cordoglio e appunto porgere le più sentite condoglianze a tutti quanti i parenti dei defunti elencati dal Sindaco Sibille. In gran parte del nostro gruppo è stato presente alle varie cerimonie e appunto in questo momento vorremmo ribadire la nostra vicinanza. Innanzitutto, nel momento in cui si trattano di comunicazioni, questo è un momento in cui magari ogni tanto anche di ribadire che cosa sono le comunicazioni. Noi siamo d'accordo che il Sindaco, ma perché è giusto che sia così, e che il Presidente venga in quest'Aula e faccia delle comunicazioni in merito a cose che sono avvenute durante, diciamo, il periodo transitorio da un Consiglio comunale ad un altro. E' giusto che sia così, il regolamento lo prevede, e è cosa buona e giusta. Utilizzare il momento delle comunicazioni per, in una maniera o nell'altra, in maniera indiretta, fare delle dichiarazioni, affermazioni su governo e quant'altro, secondo noi, visto e considerato che appoggiamo in maniera chiara e ferma anche noi la posizione della contro, e siamo assolutamente contro qualsiasi atto di violenza, ma riteniamo anche opportuno che questi atti di violenza non debbano essere usati per montare semplicemente un clima continuo, appunto, che alla fine si vuole dare la colpa al governo o qualcos'altro per questo aumento del razzismo. Credo che questo è un problema che ci è sempre stato, ed è un qualcosa da quale tutti noi dobbiamo combattere e far cambiare e fare in modo che tale fatti non accadano. Però non andiamo a metterla in bagarre politica con degli spot, secondo me, elettorali, perché non credo che il governo o il Salvini o il ministro dell'interno stesso faccia sia il primo responsabile per atti di pura e netta ignoranza. Perché questo qui è semplicemente ignoranza delle persone e non ci sono altre scuse o altri fattori che possono causare, se non, appunto, l'ignoranza. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei. alle interrogazioni e poi alle successive mozioni scritte all'ordine del giorno. Faccio questa proposta anche perché ho sentito poco prima del Consiglio alcuni consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, che mi sollicitavano in tal senso. Quindi la faccio qui pubblicamente, raccogliendo le proposte che mi sono venute in modo bipartisan, come si dice. Quindi se vogliamo esprimerci con il voto, se vogliamo intervenire, dire sì, dire no, va bene, insomma, la discussione è aperta. Consigliere Tripodi, prego. Allora, visto che tali episodi ormai si presentano con abitudine, il fatto che venga richiesta la modifica dell'ordine del giorno, e visto e considerato che le norme avvengono soprattutto alle origini, dalle consuetudini, e se consuetudine è e sarà nel prossimo tempo ogni volta modificare l'ordine del giorno, allora normiamolo in maniera molto chiara, prendiamo atto di questa volontà continua di modificare l'ordine del giorno, lo normiamo e facciamo in modo che le interrogazioni e quant'altro vengano alla conclusione di tutti gli ordini del giorno previsti, e così non veniamo qui ogni volta in Consiglio Comunale a chiedere di modificare o meno l'ordine del giorno. Comunque per noi va bene, accettiamo la modifica e l'inversione dell'ordine. Sì, perché chiaramente il regolamento si esprime in modo chiaro su questo, però se c'è il consenso di volta in volta, anche perché non tutte le volte sono uguali a quella precedente, insomma ci sono anche delle questioni, magari delle tecnici del Comune che magari vogliono anche assentarsi prima, insomma di volta in volta ci sono diverse motivazioni che possono indurre o meno a rispettare la regola, la lettera del regolamento oppure no. Quindi poi possiamo anche parlarne poi nella competente commissione presieduta dal Consigliere Allase, quindi non ci sono problemi, almeno da parte mia, non ci sono veti per discutere anche di... Non ho capito, scusa. Quindi? Non riesco a sentire, senza microfono non riesco a sentire. Va bene, quindi la proposta mia è questa. Il Consigliere Tripodi si è già espresso, se qualcun altro vuole, altrimenti la diamo come volete, insomma. Consigliere Somaglia, prego. È esclusivamente per accettare la sua proposta, ecco per noi va benissimo. È vero che ultimamente più volte è stato richiesto questa inversione e io già alcuni anni fa sulla scorta delle mie esperienze in provincia avevo proposto di analizzare la possibilità di normare da statuto, da regolamento, però vedremo. Intanto, visto anche l'esiguità del numero delle proposte che sono all'udine del giorno, ci vede assolutamente favorevoli. Grazie. Grazie al Consigliere Somaglia. Ha chiesto la parola al Consigliere Ferrero. Quindi anche a nome della maggioranza esprimo parere favorevole a questa inversione, quindi il calendario verrebbe ad essere 4, 5 e poi internazionale. Grazie. Grazie, Consigliere Ferrero. Consigliere Allasia, prego. Grazie, Presidente. Anch'io sono d'accordo riguardo all'idea proposta dal collega, Consigliere Tripodi, e poi ancora confermata dal Consigliere Somaglia. direi che è possibilissimo, a ritorno dalle vacanze, insomma, nei mesi di settembre, affrontare con una commissione questo aspetto, magari insieme ad altri aspetti, così normiamo una normalità. Poi tanto attualmente il regolamento permette ampia libertà di spostamento dell'ordine del giorno. E' chiaro che se cominciamo a prevedere che normalmente si svolge in un certo modo piuttosto che nell'altro, ha senso anche prenderne atto. Grazie, Presidente. Grazie. Allora, mi pare di capire che c'è l'unanimità, dunque non sottopendiamo al voto e pertanto quindi introduciamo questa inversione. Quindi cominciamo con la proposta numero 4, che riguarda l'approvazione dei verbali della seduta precedente, dal numero 32 al numero 42 del 27 giugno 2018. Anche qui, se non ci sono interventi, come norma, passiamo alla votazione. Registriamo la presenza. Siamo in 15. Sono due senti, ancora due. Va bene. Poniamo in votazione allora la delibera numero 4. Votazione chiusa. Ci sono 14 favorevoli e un astenuto, data l'assenza. Passiamo allora alla proposta numero 5. Variante semplificato numero 2 del piano regolatore generale comunale attraverso i sensi dell'articolo 17 bis comma 4 della legge regionale 56 del 77, successive modifiche e integrazioni, proponente Società Arpa Industriale S.P.A. Approvazione. Illustra il Sindaco. Credo che questa delibera che stiamo per approvare sia una delibera particolarmente importante. abbiamo già usufruito in precedenza per un'altra attività produttiva della normativa che permette una semplificazione per quanto riguarda la legge urbanistica relativamente ad attività produttive che intendano ampliarsi. Credo che in una situazione particolarmente difficile dal punto di vista del lavoro i comuni hanno pochi strumenti per poter fattivamente dare lavoro pochi strumenti nel senso che è vero che ci sono dei bandi aperti qualche mobilità eccetera che si è con il nuovo contratto data qualche possibilità di assunzione ma sono delle cose molto limitate in ogni caso sempre che non hanno certamente la possibilità anzi non permettono ne manco dato il numero di persone che possono essere sostituite rispetto a quelle che vanno via non danno neanche la possibilità del normale turnover e quindi credo che ci siano pochi elementi a disposizione di cui uno è quello relativo all'utilizzo dell'articolo 17 bis della legge urbanistica regionale che permette un percorso agevolato per varianti al piano regolatore attinenti interventi proposti per consentire l'attuazione di opere necessarie per attività produttive e in applicazione di tale norma in data 28.12.2017 è pervenuta al SUAP del Comune di Bra la proposta di variante semplificata al piano regolatore vigente e valutazione di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'articolo 17 bis comma 4 della legge 5677 presentata dalla società ARPA industriale SPA collegata alla richiesta di permesso di costruire in variante al precedente piano del numero 1822 del 2017 La variante urbanistica in argomento è finalizzata ad apportare modifiche all'ubicazione del parcheggio pubblico a servizio dell'attività insediata ai fini di una razionalizzazione degli spazi a disposizione dell'attività per ottimizzare il ciclo produttivo e migliorare l'accessibilità all'azienda dalla viabilità pubblica garantendo in tal modo una razionale fruibilità dell'area Il comparto urbanistico interessato denominato BI 190 e la variante prevede il posizionamento dell'intero standard ancora da reperire in posizione prossima al cimitero comunale e al complesso sportivo Brasport consentendo in tal modo la creazione di un'ampia area a servizi denominata SPA 2011 fruibile dalla collettività La superficie complessiva sarà allestita a parcheggio pubblico e verde pubblico e sarà di circa 7.903 metri quadrati contro i circa 5.540 dovuti in applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 56 La società ARPA ha proposto l'associizzazione in perpetuo ad uso pubblico con fruibilità 7 giorni su 7 e 24 su 24 la manutenzione rimane in carico alla proprietà proponente che ha depositato a corredo degli elaborati del permesso di costruire il libretto di manutenzione nel quale sono descritte dettagliatamente le modalità e le attività di manutenzione nella conferenza dei servizi sono state indicate anche le tipologie di essenze che devono essere piantumate e credo che questo sia un elemento certamente anche questo importante questa sera in consiglio comunale approda la variante urbanistica dopo un iter articolato svoltosi nei mesi scorsi in conferenza di servizi con Regione, Provincia e altri enti coinvolti nel procedimento che ha portato ad escludere la VAS dal procedimento e a ritenerlo meritevole di approvazione da questo punto di vista ringrazio l'architetto Reinero per la puntualità con cui ha seguito insieme ai tecnici i suoi tecnici questa pratica credo che 28-12-2017 un consiglio comunale di luglio possono sembrare dei tempi lunghi ma le conferenze dei servizi a volte evidenziano delle problematiche che richiedono dei momenti di riaggiornamento e quindi probabilmente seguendo questa procedura è una procedura veramente molto snella e che mette in evidenza due elementi molto importanti da un lato un interesse pubblico relativo alla disponibilità di un'area più ampia di 5.540-7.903 metri quadri che sono un'area decisamente importante a verde ma soprattutto mette a disposizione un parcheggio che certamente sarà utilizzato relativamente all'attività aziendale ma ha modo di poter essere utilizzato nei fine settimana negli spazi al di fuori dell'orario di lavoro da tutti i cittadini e direi con la manutenzione e con la gestione da parte dell'azienda credo che ci sia una finalità pubblica che si coniuga con un elemento che anche pubblico è perché nel momento in cui una azienda sceglie di attuare un passaggio di questo genere significa che sceglie di rimanere sul nostro territorio di rimanervi in condizioni che ovviamente prevedono una espansione e prevedendo un'espansione certamente prevedono nuovi posti di lavoro questo elemento unito ad un precedente passaggio che è già molto importante che ha determinato lo spostamento dei mezzi pesanti da Via Piumatti dall'accesso della Via Piumatti all'accesso sul Corso Monviso con anche una sistemazione più decorosa dell'area credo che siano degli elementi che da una parte danno un segnale positivo perché significa che questa azienda ha intenzione di investire nel nostro territorio siamo molto orgogliosi che il nuovo prodotto che è stato da poco che è entrato da un po' in produzione stia dando dei buoni risultati e abbia quindi un ritorno positivo che non può che essere un ritorno positivo per l'azienda certamente ma un ritorno positivo per chi all'interno di quella azienda lavora all'interno di quella azienda svolge la propria attività da quell'azienda percepisce uno stipendio e credo che sia un modo di chiudere la parte amministrativa prima delle vacanze con una notizia positiva ci sono alcune altre attività che si stanno sviluppando all'interno della nostra città sono piccoli segnali ma piccoli segnali che io credo assolutamente importati frutto di un lavoro che probabilmente ha determinato la politica messa in campo sulle questioni del lavoro e delle assunzioni negli scorsi mesi e negli scorsi anni certamente poi c'è un elemento specifico di volontà da parte di questa azienda di voler restare fermamente ancorata alla nostra città e direi che è un elemento molto importante grazie al sindaco ci sono interventi su questa delibera consigliere all'asia grazie presidente ci sono alcuni elementi di riflessione che ha illustrato il sindaco e per quanto riguarda lo specifico della variante elementi tutti assolutamente positivi volevo partire da un punto di discordanza che era il punto invece del fatto che lo sviluppo di questa azienda possa essere anche in forma indiretta la conseguenza delle politiche sul lavoro degli ultimi mesi diciamo che qui abbiamo una visione diversa ma non importa guardiamo cosa sta succedendo per quanto riguarda l'intervento in sé quindi la variante semplificata devo dire che sinceramente io mi ricordavo il progetto precedente se non vado errato erano previsti per questo primo intervento di ampliamento dell'attività produttiva circa 1000-1080 metri quadri di superficie da adibire agli standard urbanistici e con questo atto l'azienda ha voluto anticipare tutti gli standard urbanistici dovuti in previsione già dello sviluppo delle future possibilità che attualmente le sono a disposizione devo dire che il primo passaggio quello relativo ai 1080 metri quadri aveva sollevato in me alcune perplessità non tanto nella fase progettuale ma nella fase realizzativa poi adesso ho capito perché e devo essere sincero avrei fatto un'interrogazione a questo consiglio proprio per chiedere conto del fatto che quegli standard urbanistici venivano di fatto all'interno dell'area recintata all'interno dell'attività produttiva fortunatamente devo dire io trovo tutti gli elementi positivi che ha citato il sindaco li ritrovo anch'io specialmente quelli riferiti al fatto che questi standard urbanistici verranno pienamente utilizzati per un servizio pubblico e in questo caso c'è un'esigenza specifica locale per l'utilizzo di un'impiantistica sportiva che ancorché privata ha un utilizzo da parte di cittadini braidesi estremamente elevato e devo dire che il sindaco prima ce ne va il fatto che oltre agli utilizzi aziendali ci sarà servizio pubblico probabilmente l'utilizzo aziendale come parcheggio sarà riservato tutto all'interno insomma in una sostanza penso che sia totalmente l'utilizzo pubblico e tutte le previsioni nella bozza di convenzione o convenzione prevista vedono per me finalmente applicati quei principi di cui ho portato all'attenzione della commissione urbanistica poi in questo consiglio insieme al collega Amajou per quanto riguarda quello che per noi era invece il mancato utilizzo effettivo a servizio pubblico di moltissime situazioni precedenti a questo mi riferisco in particolare al fatto che qui finalmente si prevede come norma in tantissimi comuni il fatto che l'area pubblica sia aperta 24 ore su 24 e che non ci siano costi aggiuntivi per la parte pubblica e che i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria siano a carico del soggetto privato che come controparte mantiene la proprietà privata dell'area sul sul progetto in sé noi abbiamo portato alcune considerazioni pensiamo che ci siano alcune cose da correggere in particolare alla disposizione dei parcheggi per i disabili proprio perché vediamo questo spazio prevalentemente orientato all'utilizzo verso l'area residenziale e la struttura sportiva pensiamo che la locazione più adatta per questi parcheggi sia verso quell'area e non come per questo adesso verso Corso Monviso e altri se volete dettagli ma tra questi quello che per noi sarebbe un naturale prolungamento dell'area ciclabile che attualmente ha in me dei problemi di praticabilità di Corso Monviso un collegamento verso la struttura sportiva sempre sotto forma di pista ciclabile e verso l'area residenziale che si trova dietro la struttura sportiva quindi via Gabotto e tutta l'area penso che sia importante fare un ragionamento sull'estensione sul raccordo di una pista ciclabile e sacrificando una parte di fascia verde che attualmente si situerebbe tra il parcheggio e la sede stradale anche così andando secondo noi a facilitare proprio ad esempio la deambulazione dei disabili che in questo momento come sono concepiti gli spazi uscendo dalla piazzola del parcheggio dei disabili si troverebbero per andare al parcheggio a dover attraversare o l'intero parcheggio oppure la trincea verde e quindi secondo noi non proprio adatto le comprò queste cose riguardano gli aspetti progettuali che penso e spero che possano essere oggetto di valutazione da parte degli uffici e del proponente per le correzioni del caso noi avevamo anche preoccupazione per quanto riguarda il mantenimento dell'area verde che è particolarmente estesa e chiedevamo che ci fosse quello che io chiamo diciamo un capitolato per la manutenzione di queste aree verdi e delle aree in generale in generale per non rischiare di avere poi delle aree abbandonate un po' se stesse perché non si è specificato poi effettivamente quali sono i doveri della manutenzione ho sentito però dalla presentazione del sindaco che in realtà è stato prodotto quello che ha chiamato adesso mi sfugge il nome ma libretto di manutenzione quindi di fatto esattamente un elenco immagino di attività e di obblighi giustamente per reciproco controllo dell'attività e quindi penso che questo sia pienamente soddisfatto e quindi da questo al di là di questi aspetti diciamo progettuali non posso che vedere tutti gli aspetti positivi che aveva enunciato per questo tipo di intervento il sindaco grazie grazie a lei grazie a lei consigliere Elena grazie presidente volevo innanzitutto mi scuso che non l'ho fatto prima ringraziare tu e la merito l'amministrazione tutti i colleghi tutti per la vicinanza del momento che purtroppo è successo merito invece a questa delibera il nostro gruppo lo ritiene veramente un ottimo intervento come ha detto bene il sindaco si tratta di una procedura che abbiamo della variante a piano regolatore in base all'articolo 17 bis semplificato comma 4 della legge regionale 56 77 che appunto prevede tutta una procedura semplificata con chiaramente come ha sottolineato il sindaco prima però la tempistica ci va perché deve essere fatta appunto la conferenza dei servizi in cui vengono coinvolti dei soggetti che sono appunto la regione la provincia l'ASL l'ARPA Piemonte la Tecnoedi il gestore del servizio idrico fognario che hanno fatto le loro considerazioni in merito chiedendo leggendo la delibera visto che ci sono anche delle annotazioni che hanno chiesto ma niente di particolare delle cose tecniche dal punto di vista dell'intervento non possiamo che essere sicuramente come già detto in precedente favorevoli perché lo riteniamo veramente un intervento che va da una parte a ottemperare le esigenze di un'importante attività produttiva di BRA dell'ARPA che chiaramente va a ottimizzare i suoi spazi relativi al ciclo produttivo e all'ingresso all'azienda e come sempre ha sottolineato già anche il sindaco abbiamo detto anche in sede di commissione urbanistica a sgravare un po' il discorso su della viabilità da via più matti portando appunto su Corso Monviso che è una via chiaramente con caratteristiche nettamente diverse e più consone per un'attività produttiva l'intervento in sé come è già stato come abbiamo visto in commissione urbanistica come ha sottolineato anche già in precedenza il collega consigliere all'Asia dal punto di vista tecnico poi chiaramente dovrà essere sicuramente ci sarà un permesso di costruire nel dettaglio abbiamo anche in sede di commissione detto anche noi queste cose tra l'altro abbiamo portato la nota che il consigliere all'Asia non potendo partecipare ci aveva lasciato e sì per quanto riguarda il discorso nel particolare ad esempio sul discorso dei parcheggi relativi agli handicappati sono parzialmente d'accordo che effettivamente potrebbe esserci una previsione magari sia da una parte che dall'altra perché non tutti di qua perché anche verso il cimitero o verso l'azienda stessa potrebbe essere utilizzato anche qui da handicappati non soltanto dalla parte di Brasport o della zona residenziale e quindi quello si può secondo me valutare poi in sede di progetto per quanto riguarda appunto come dicevo prima l'intervento è una cosa ottempera appunto l'esigenza dell'azienda ma dall'altra parte appunto l'importante esigenza anche dal punto di vista comunale quindi di tutta la cittadinanza perché andiamo si va a creare un parcheggio con un'annessa zona verde in una zona che in cui persista appunto un'attività sportiva un'attività l'azienda stessa e il cimitero comunale quindi è molto importante avere uno spazio così importante per parcheggio pubblico e con anche annessa area verde e anche una serie di barriere verdi come abbiamo visto nel progetto che vanno anche a mascherare un pochettino il discorso del cimitero e dell'ecocentro quindi dal nostro punto di vista il nostro gruppo ribadiamo la nostra totale siamo totalmente d'accordo e quindi esprimo già parere favorevole del nostro gruppo su questa delibera grazie grazie a lei consigliere consigliere Ferrero prego e poi consigliere Panero molto brevemente perché per tutte le argomentazioni che ha citato il sindaco a sostegno della proposta di deliberazione dico subito che come maggioranza sicuramente e convintamente esprimiamo un parere positivo credo questo sia uno dei primi esempi per noi mi pare il secondo della positività del ricorso alle varianti semplificate per agevolare attività produttive e quindi ecco è la risultanza dei risultati concreti e veloci che questa cosa può portare credo che questo sia anche un'occasione di mettere assieme l'interesse pubblico che è quello dell'acquisizione di un parcheggio pubblico di quelle dimensioni che avrà un utilizzo molto importante in quanto oltre a essere pubblico in senso generale in determinate situazioni sarà molto molto utilizzato da una parte per il cimitero dall'altra parte per le giornate di sabato e festivi per quel centro sportivo e anche per tutta la zona anche di via Gabotto che è abbastanza carente di parcheggi questo sarebbe ad una distanza non troppo non troppo grande e dicevo interesse di entrambe le parti e anche dell'azienda in quanto facendo questo spostamento di questo spazio dall'interno all'esterno del perimetro aziendale sicuramente avrà maggior facilità nell'utilizzo e disposizione degli spazi produttivi all'interno quindi credo che sia questa una una buona occasione e un grosso vantaggio pubblico anche se in questo caso non è una dismissione vera e propria però è molto chiaro che questo diritto di superficie ha una durata perenne quindi seppur non proprietà effettiva della parte pubblica però c'era disponibilità perenne con oneri carico all'azienda della parte manutenzione quindi per certi aspetti ne prendiamo i benefici e lasciando la maggior parte dei costi a carico dell'azienda quindi credo sia un'operazione di tutto vantaggio che vada sicuramente approvata grazie grazie a lei consigliere consigliere panero prego grazie presidente buonasera a tutti ci troviamo qui questa sera a questo punto all'ordine del giorno che è presentata dalla società araba industria spa per modificare l'ubicazione del parcheggio pubblico ai fini di una razionalizzazione degli spazi a disposizione dell'attività per ottimizzare il ciclo produttivo e migliorare l'accessibilità dell'azienda della visibilità pubblica garantendo in tal modo una razionale fluidità dell'area domanda fatta il 28 12 2017 ho voluto rileggere questa parte perché riassume bene qual è lo spirito di questa richiesta richiesta ripeto fatta il 28 12 2017 ci troviamo a fine luglio e per chi si occupa di urbanistica sa che i tempi sono stati stretti cioè si è andato veramente veloce perché una variante benché con iter semplificato di questo tipo riuscire ad arrivare diciamo non è che oggi siamo proprio la conclusione però un passaggio importante come quello in consiglio comunale in sette mesi vuol dire essere andati veramente veloce e ci spieghiamo che questo accada sempre anche con domande diciamo di minore entità e di minore portata facciamo anche nostre quelle che sono le osservazioni le considerazioni fatte dagli enti coinvolti in particolare nella seconda conferenza dei servizi cito in particolare quella della ditta tecnoedile SPA che richiede che tutti i chiusini dei pozzetti vengono messi a quota questo lo facciamo in questa in questa occasione e però ci interessa farlo a livello generale che questa sia una buona abitudine presa per qualsiasi intervento perché purtroppo capita molto spesso che i tombini e i chiusini non vengono portati al piano diciamo del tappetino di usura finale e quindi si creano delle scalini pericolosi per gli utenti della strada che come sappiamo bene non sono solo gli automobilisti ma anche i ciclisti e i podisti per capirci facciamo anche le considerazioni dell'asle cn2 dove chiede appunto che questo intervento non interferisca con l'eventuale piano o progetti di ampliamento del del cimitero questo punto all'ordine del giorno è stato trattato nella commissione anche urbanistica del 18 luglio 2018 appena scorso appunto variante semplificata dall'articolo 17 bis della legge regionale 56 dove un'area verde privata viene trasformata ad area servizio appunto su richiesta della dittarpa un'area che doveva essere come già sto detto e questo lo calniamo in modo positivo di 5.540 metri e otteniamo tra virgolette un'area di complessivi più di 9.000 metri quadrati un altro aspetto che vogliamo sottolineare è il fatto che nel futuro permesso di costituire convenzionato sono sicuro come ha detto il sindaco sarà riportato che le spese totali di gestione dell'area verde e anche dello sgombero della neve saranno a totale carico della ditta arpa e quindi diciamo che questo impegno che noi oggi prendiamo non ha costo per per l'amministrazione comunale in quella sede nella sede della commissione avevamo anche noi evidenziato come questa poteva essere la possibilità per ottenere l'allargamento della strada o l'ottenimento della realizzazione della pista ciclabile ma si sa quando si arriva a questo punto questo è sempre il risultato di una trattativa tra l'amministrazione e la ditta o il richiedente non si può ottenere tutto ci apposichiamo che nel permesso di costruire si possa ancora ottenere qualcosa o qualche modifica avevamo anche sottolineato come è stata prevista da progetto una quinta verde di circa una trentina di metri diciamo per capirci situata verso l'attività al centro sportivo che in questo modo allontanava un po' i parcheggi dalla fruibilità del centro e se non vi era la possibilità di poterli avvicinare un po' di più all'attività e questa quinta verde spalmarla in maniera un po' diversa tutto questo premesso siamo assolutamente favorevoli all'ordine del giorno che oggi viene presentato perché come gruppo siamo sempre stati sostenitori e favorevoli quando una ditta richiede o si impegna con interventi di questo tipo una ditta che non ricordiamo ha una proprietà anche olandese quindi trovare una ditta che voglia continuare comunque questa è la dimostrazione che a Bra se si trova bene si è trovata bene non può che trovarci come gruppo favorevoli ad accogliere una richiesta di questo tipo ritornando un attimo al punto dolente della pista ciclabile questa pista ciclabile sarebbe dovuta collegare a quella già esistente ma come ho già espresso in commissione urbanistica quella esistente in questo momento è assolutamente inutilizzabile perché è invasa assolutamente dal verde è totalmente inutilizzata spesso e volentieri vediamo come i ciclisti in quella zona occupano il sedime stradale invece della pista ciclabile perché si trovano in una condizione di degrado e di assoluto inutilizzo quindi è giusto fare le piste ciclabili ma è anche giusto una volta fatte mantenerle e poterle usufruire grazie grazie a lei consigliere consigliere Marengo prego grazie presidente sarò spero breve nel mio intervento condivido tutto quello che è stato detto fino a questo momento dai colleghi parto da un ringraziamento ringrazio l'architettore in nero attraverso lei tutti i componenti dell'ufficio urbanistica per l'ottimo lavoro come sempre svolto quotidianamente non possiamo come gruppo che essere favorevoli alla delibera che oggi ci viene presentata e che abbiamo sviscerato in commissione urbanistica al netto di tutto quello che è stato detto fino adesso e che è sostanzialmente condivisibile mi permetto di fare una considerazione più ampia nel senso che il tempo stretto e i pochi mesi intercorsi tra la domanda e il passaggio in consiglio comunale indicano che anche in Italia se le cose si vogliono fare e se c'è l'intelligenza delle persone e la buona volontà i risultati si possono si possono ottenere non è certo questo un paese in cui come dire i tempi veloci sono sono realizzati tutte le volte ma riusciamo a procrastinare anche le cose semplici vediamo anche prima il vice sindaco faceva l'esempio di corsi e ricorsi di aziende vincitori e perdenti per quanto riguarda i vari appalti che procrastitano necessariamente le tempistiche di realizzazione delle opere devo dire devo dire che fa piacere vedere appunto un'azienda come Arpa Industriale che in questi anni ha fatto molti investimenti è un'azienda capitale straniero di proprietà straniera ma ha puntato su Brà e ha visto in Brà un polo produttivo per le proprie per le proprie per i propri prodotti e devo dire che il prodotto nuovo da cui si riferiva al sindaco prima cioè il Fenix sta ottenendo successi a livello mondiale c'è stato anche in tutto questo oltre la positività della ricezione da parte del comune di questo parcheggio anche il fatto e non secondo me secondario dello spostamento di tutto il traffico pesante da via Piumanti a Corso Monviso questo libererà sicuramente il traffico renderà l'aria sicuramente migliore per i residenti e soprattutto eviterà code magari col passaggio a livello chiuso quindi il nostro giudizio non può che essere favorevole e come il collega Ellen anche io preannuncio già il mio voto favorevole in fase di votazione grazie grazie al consigliere Marengo mi pare che i gruppi si sono espressi tutti o comunque maggioranza consigliere Tripodi prego solo solo per l'espressione di voto in questo momento nella parte più tecnica ha espresso appunto le varie questioni il collega consigliere Panero come ha anticipato lui favorevoli a questa a questa delibera e questa delibera deve farci ben sperare deve far sperare il nostro territorio e comunque la nostra città per un futuro diciamo un pochettino più roseo rispetto ai tempi che abbiamo passato e che purtroppo ancora stiamo passando perché questi sono piccoli segnali secondo noi dove innanzitutto di buona amministrazione a livello comunale due di spiragli in senso di possibilità di sviluppo locale per le aziende che nel momento in cui prevedono ampliamenti e prevedono ulteriori investimenti ci rassicurano e rassicurano l'intera città per la possibilità di creazione di nuovi posti di lavoro perché se è vero se è vero che il nostro comune l'ente comunale pochi pochi strumenti ha a disposizione per far leva e per fronteggiare quella che è la problematica occupazionale è anche vero che dobbiamo veramente ribadire quello che durante l'intervento del sindaco confermava e ribadiva importanza alla sburocratizzazione importanza alla semplificazione le aziende non tutte le aziende chiedono chissà che cosa o la luna semplicemente di avere un'amministrazione a volte attenta vicina veloce e questo metodo e questo modo di svolgere l'attività amministrativa deve essere utilizzato non metto in dubbio che non sia utilizzato in altre occasioni ma deve essere veramente la normale e l'ordinaria attività di di un'amministrazione quindi come diceva anche il consigliere Marengo quando si vuole arrivare ad un obiettivo e c'è un obiettivo comune anche il nostro territorio anche l'Italia che è il paese che viene dichiarato come il paese peggiore tra un po' per poter fare degli investimenti e credere in quello che può essere uno sviluppo se gli obiettivi sono comuni e c'è una vicinanza dell'amministrazione e alle aziende questo forse dà adito ad una speranza che è quella di creare quello che poi è la cosa fondamentale lavoro benessere e sviluppo grazie grazie a lei consigliere se non ci fossero più interventi io metterei i voti la delibera non vedo richieste di interventi quindi la discussione è chiusa o nella delibera su cui poi si dovrà votare anche l'immediata eseguibilità quindi segnaliamo la presenza va bene deve ancora votare ah c'è già la votazione per bacco ecco perché i sedici quindi si sono diventati sedici va bene allora la votazione è chiusa quindi delibera approvata all'unanimità passiamo adesso all'immediata eseguibilità quindi bene tutti registrati possiamo votare ancora uno votazione chiusa stesso risultato immediata eseguibilità approvata all'unanimità grazie passiamo allora alle interrogazioni la prima interrogazione la prima interrogazione presentata da consiglieri somaglia Elena e Marengo riguarda come oggetto il progetto di realizzazione del plesso scolastico di via Trento e Trieste prego uno dei tre che possono illustrare consigliere somaglia prego ma l'interrogazione nasce dal fatto che come citiamo alcune alcuni mesi fa ormai il sindaco ci aveva comunicato in conferenza di capigruppo l'intenzione o meglio a seguito della partecipazione del bando dell'INAI l'intenzione di realizzare un nuovo plesso scolastico via Trento Trieste nella riunione in cui avvenne la comunicazione nelle riunioni successive era stato richiesto da parte nostra l'approfondimento del e la visione eventuale di tavole di progettazione in riunioni successive o della conferenza capigruppo delle commissioni competenti ecco sono trascorsi ormai un paio di mesi e con questa interrogazione volevamo avere novità sul sull'iter di progettazione di realizzazione grazie grazie a lei consigliere risponde il sindaco in in queste settimane si sta procedendo con diversi momenti di confronto con i rappresentanti di RFI SPA con il coinvolgimento dei nostri uffici tecnici al fine di definire in dettaglio lo spazio necessario le metrature conseguenti per la realizzazione di quello che riteniamo un intervento strategico per questa città e cioè l'insediamento in quell'area di un polo scolastico con servizi accessori necessari e caratteristiche innovative d'altronde nel piano regolatore avevamo individuato nella scuola Piumatti un cambio di destinazione d'uso subordinato subordinato al fatto che venisse spostata la la scuola e dalle dalle incontri numerosi che si sono ovviamente in termini generali avuti sull'argomento è prevalsa una esigenza di mantenere questa scuola all'interno del nucleo abitato sostanzialmente non spostata in aree esterne e questo per diverse ragioni dicevo dicevo un intervento strategico per questa città e cioè l'insediamento in quell'area di un polo scolastico con servizi accessori necessari e caratteristiche innovative l'oggetto degli incontri ha come elementi di trattative tra gli altri anche l'ingresso separato per la parte di RFI e la quantificazione metrica della fascia di rispetto necessaria da acquisire da parte di RFI SPA la proposta definitiva di acquisizione dell'area con la precisa individuazione e perimetrazione del sito indispensabile per predisporre dei successivi atti amministrativi e tecnici inclusa la predisposizione della progettazione della variante urbanistica gli uffici della ripartizione dei lavori pubblici hanno sinora proceduto a sviluppare le soluzioni di progetto dell'opera pubblica finalizzate esclusivamente a verificare se la superficie proposta da RFI sia sufficiente all'insediamento di un nuovo complesso scolastico con le caratteristiche con le esigenze di quello che andrebbe a sostituire si rappresenta inoltre che il progetto di opera pubblica dovrà essere sviluppato tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche interessate per quanto riguarda gli aspetti viabilistici sono lo studio approfondimenti a cura della società mobilitar di Milano incaricata della predisposizione del PUMS sarà la nostra premura informare i consiglieri comunali attraverso le varie commissioni sugli sviluppi della trattativa non appena la cornice e le caratteristiche di base siano definite attraverso i passaggi illustrati ovviamente non ho fatto riferimento in questa anche perché non lo chiedevate a tutto l'aspetto invece economico che è connesso con la costruzione di questo edificio sul quale tra l'altro in questo periodo l'assessore Fogliato ha fatto degli approfondimenti tecnici anche importanti grazie al sindaco prego il consigliere Somalia ma parto proprio dalla parte finale della risposta del sindaco se è vero noi non abbiamo fatto riferimenti alla parte economica ma perché era implicito nel fatto che già in quella sede avevamo richiesto la convocazione o ripeto della conferenza di capigruppo o delle commissioni competenti per approfondire sia la parte progettuale e qui questa sera veniamo a conoscenza del fatto che la ripartizione dei lavori pubblici sta procedendo in quella direzione sia della parte economica quindi di progetto e ricordo che anche il presidente del consiglio comunale aveva sposato questa richiesta di approfondire nelle sedi opportune la progettualità sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico e per quanto riguarda il fatto che sia un intervento strategico che sia strategico il fatto di risistemare un plesso scolastico o nella sede attuale e quindi quella della sistemazione attuale o di risistemarlo in un'altra parte della città siamo d'accordo anche noi e non siamo però assolutamente d'accordo e l'abbiamo già detto nelle sedi opportune e su qualche comunicato stampa che abbiamo fatto qualche mese fa che la localizzazione scelta a nostro avviso non risponde ai requisiti di viabilità e di strategicità della localizzazione ci sono altri siti che abbiamo già elencato già di proprietà dell'amministrazione comunale che sono prossimi al nucleo abitato quindi non richiederebbero neanche chissà che tipo di difficoltà di spostamento degli alunni e dei genitori per condurli alle lezioni scolastiche il fatto se ho capito bene che comunque si richieda alla società che aveva predisposto il PULSP una valutazione sull'impatto e ci spinge a chiederci se ci sia anche un costo aggiuntivo ovviamente su questo e quindi non si vada verso la razionalizzazione dei costi quindi richiediamo che ci sia un approfondimento dell'argomento nelle commissioni competenti proprio per poter entrare nel merito sia degli aspetti progettuali sia degli aspetti economici per un intervento che se non ricordo male presumibilmente era intorno ai 7 milioni di euro quindi di una rilevanza oltre che strategica economicamente molto rilevante grazie grazie passiamo all'interrogazione numero due sono i medesimi gli interroganti ma Rengo e Elena e Somalia che vogliono avere delucidazioni su due argomenti il bando di Palazzo Garrone e la situazione a seguire da una una parte e dall'altra quali siano le intenzioni per la gestione del movicentro prego consigliere Marengo grazie presidente la nostra interrogazione che come lei ha ricordato è divisa in due tende ad avere delucidazioni su due opere che consideriamo strategiche per la città sono ormai passati due anni dalla prima variante del piano regolatore e sia nelle commissioni competenti sia in quest'aula durante la discussione nel momento in cui per quanto riguarda Palazzo Garrone si chiese la variazione per la destinazione d'uso si fece un gran parlare di un eventuale e questa fu la ragione perché anche il centrodestra braidese votò convintamente quella variazione in seguito a questa variazione appunto il fatto che potesse esserci un bando di gara per ipotizzare all'interno di Palazzo Garrone una sistemazione diversa nello specifico un hotel di lusso ci fu anche tutta una discussione qui in consiglio e nella commissione urbanistica se poi destinare a chiedere a chi avesse vinto poi eventualmente il bando di destinare una sala conferenze per il comune si parlò molto della questione terrazzo eccetera e proprio allora anche il presidente del consiglio ricordo si fece promotore di una in tempi brevi commissione per valutare quelle che potessero essere le effettive possibilità per il bando sono passati due anni e ancora oggi noi non sappiamo nulla quindi la nostra domanda è a che punto è il il bando a quanto ci consta nulla è stato fatto e se è così quali sono le motivazioni per cui nulla ha portato a diciamo così a a questo ritardo è vero che oggi c'è un ufficio dell'STR è vero che ci sono ancora dei mobili e dei faldoni dell'ex tribunale però credo che questo nulla abbia a che vedere nulla infici anche solo l'idea di poter iniziare a pensare ad un bando il secondo punto della nostra interrogazione verte invece sul movicentro anche qui ormai è passato un anno dalla diciamo dalla convenzione con RFI che assegna al comune di Bra ha per trent'anni il movicentro ed è vero che come sicuramente ci ricorderete nella vostra risposta che si deve tenere presente la collocazione del trasporto su gomma all'interno del movicentro per cui sicuramente si deve fornire un diciamo così un ufficio o un ufficio e una posizione riparata per le persone che usufruiscono dei pullman questo però non significa destinare tutto il movicentro a a quest'unica opzione quindi io già in consiglio allora quando votammo chiesi al sindaco quali erano le intenzioni per quanto riguardava il restante la restante parte del movicentro il sindaco mi rispose che l'amministrazione non aveva ancora in quel frangente preso alcuna decisione è passato un anno e siamo siamo ancora qui e quindi la nostra interrogazione verte proprio su questo cioè chiedere quali siano le intenzioni di questa amministrazione per l'utilizzo del movicentro grazie grazie al consigliere Marengo e risponde il vice sindaco Borrelli con riferimento all'interrogazione di cui è all'oggetto per quanto riguarda Palazzo Carrone dobbiamo innanzitutto ricordare che lo stesso non risulta ancora completamente libero in quanto il tribunale di Asti non sia ancora ufficialmente pronunciato in merito alla ricollocazione della documentazione di archivio della soppressa sezione distaccata del tribunale di Bra tra l'altro discuteremo poi di questa cosa anche con una mozione che è stata presentata da tutto il consiglio comunale l'amministrazione comunale comunque ritiene che in questa fase sia più opportuno anziché predisporre un avviso per manifestazione di interesse procedere attraverso la possibilità per gli operatori economici interessati a far pervenire progetti di partenariato pubblico privato per l'affidamento della concessione di lavoro e di rifunzionalizzazione dell'immobile secondo quanto previsto alla variante del piano regolatore sulla base delle proposte progettuali pervenute si valuterà l'esistenza o meno dell'interesse pubblico a quel punto la proposta sarà messa in gara con diritto di perlazione per il proponente sarà nostra cura informare i consiglieri attraverso le apposite commissioni relativamente al movicentro posto con l'atto di convenzionamento avendo adoccetto la costituzione di un diritto di superficie gratuito sull'immobile su cui deve essere mantenuta la destinazione d'uso a nodo di interscarbi o passeggeri e servizi connessi al trasporto pubblico locale è stato stipulato in data 10 ottobre 2017 si comunica che anche in questo caso sono valide le considerazioni prime esposte riguardo di palazzo garrone cioè sul fatto che soggetti terzi possano presentare proposte di intervento in partenariato pubblico privato tuttavia si rende necessario segnalare che sono stati effettuati alcuni incontri con i rappresentanti del consorzio trasporti grandabus attuale affidatario da parte della provincia di cuneo del servizio tpl extraurbano della provincia di cuneo del servizio delle conurbazioni di bra e alba e del servizio urbano di mondovì saluzzo savigliano e fossano il consorzio si è impegnato a presentare una proposta di utilizzo degli spazi per i locali da destinarsi a sala d'aspetto opportunamente attrezzata ad un ufficio in relazioni con il pubblico e uno spazio biglietteria coerentemente agli obblighi indicati nella convenzione ed in accordo con gli uffici regionali competenti per le aree restanti l'amministrazione intende sviluppare la collocazione di attività volte alla promozione del territorio incluse quelle turistiche privilegiando azioni di mobilità sostenibile anche in questo caso i consiglieri saranno informati attraverso le apposite commissioni grazie grazie all'assessore Borrelli prego consigliere Malengo la replica grazie ma devo dire che la risposta mi soddisfa solo in parte perché se è vero che il comune può attendersi delle proposte di partenariato pubblico privato è anche vero che deve rendere pubblico questo suo pensiero se io non pubblicizzo questa mia disponibilità non ci sarà nessun imprenditore che viene a proporsi questo vale sia per Palazzo Garrone sia per per il Movicentro ed è vero che questa sera discuteremo una mozione che speriamo possa andare a buon fine che possa riportare il Tribunale ad Alba lo spostamento di nuovo d'Asti ad Alba e con la sezione staccata su Brà però questo due anni fa non si sapeva abbiamo votato tutti convintamente il fatto che si potesse arrivare ad un bando di concorso fatto con tutte le garanzie infatti ricordo che allora si parlava già di eventuali fideiussioni da parte di proponenti economici privati e si sapeva benissimo che però il palazzo era ancora invaso passatemi il termine da Mobilio e faldoni vari dell'ex Tribunale però questo non ci ha impedito di votare convintamente la variazione non ci ha impedito di votare una variazione di una destinazione d'uso che inevitabilmente se si fosse presentato in seguito ad un concorso pubblico ad un bando pubblico chiedo scusa un investitore privato beh a quel punto con il Tribunale avremmo dovuto fare i conti chiedendo magari di venire a ritirarsi il materiale proprio perché il palazzo e l'opera erano stati adibiti ad altro quindi credo che ad oggi la risposta chiedo scusa ma soddisfa soddisfa davvero poco sono passati due anni siamo al punto di prima ci viene ribadito che i consiglieri quanto prima saranno chiamati a diciamo così a conoscere quelle che sono le eventuali richieste da parte di investitori privati ricordo che questa legislatura scadrà l'anno prossimo io non credo che da qui a qualche mese ci possano essere frotte di investitori privati che vengono ad investire sul territorio bridese se neanche si sa la disponibilità del comune a diciamo dare in gestione a privati in partenariato pubblico privato questi questi siti quindi detto questo ripeto la risposta non soddisfa assolutamente le domande che abbiamo posto con con la nostra interrogazione ne prendiamo atto e ovviamente ci sarà come sempre una responsabilità politica da parte delle amministrazioni nel momento in cui tutto quello che viene ribadito sia nelle commissioni sia in consiglio poi effettivamente non viene non viene mantenuto grazie grazie al consigliere Marengo passiamo alla terza mozione e scusate la terza interrogazione firmatari sempre sommaglia e le consiglieri sommaglia e le Marengo l'oggetto è l'autostrada Asticuneo e in particolare alla luce delle ultime novità consigliere Somaglia prego ah sì l'ha già detto bene presidente la nostra interrogazione premesso che il completamento dell'autostrada 33 Asticuneo è una delle problematiche principali che riguarda il nostro territorio perché non è solo semplicemente portare a compimento un'opera che aspettiamo ormai da trent'anni ma è la probabile soluzione di alcuni problemi importanti di viabilità del nostro territorio e per quanto riguarda il territorio ebraidese di ormai un insostenibile transito soprattutto di mezzi pesanti proprio attraverso il il centro quasi il centro cittadino ecco e allora alla luce di alla luce di preoccupanti notizie che arrivano dagli ambienti romani dove pare che il ministro delle infrastrutture abbia fatto delle comunicazioni che vanno così un po' contro quello che ci aspettiamo cioè la realizzazione dell'ultimo tratto degli ultimi due lotti che ricordo riguardano otto chilometri di infrastruttura che consentirebbero il completamento finale dell'opera allora pare che o meglio le notizie vanno in quella direzione e non sto lì a ripercorrere tutto l'iter che è partito da anni però per quanto riguarda questo ultimo lotto si era in attesa della firma da parte del responsabile della direzione del ministero delle infrastrutture della documentazione da consegnare al Cipe che dovrebbe in qualche maniera porre fine in maniera positiva al all'iter di presentazione della progettualità che consentirebbe l'avvio dei lavori ora queste notizie ci hanno spinti a presentare questa interrogazione affinché da parte del sindaco che probabilmente ha informazioni più dirette so che ha partecipato insieme all'assessore Balocco e al senatore Perosino un incontro presso il ministero venerdì è stato convocato da alcuni parlamentari della zona un incontro con tutti i sindaci era presente il vice sindaco Borrelli ecco ci premeva avere informazioni dirette su quello che lo stato dell'iter progettuale grazie grazie al consigliere somaglia risponde il sindaco allora credo che sulla questione dell'autostrada a Sticuneo le la 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 storia è una storia molto molto lunga ma anche è una storia che in questi ultimi mesi grazie ad un lavoro direi a più a più mani bipartisan con un collegamento tra il l'ex ministro del Rio il un lavoro molto molto importante del presidente del giunta regionale Chiamparino che mi risulta a tutt'oggi nonostante abbia richiesto da mesi un incontro sull'argomento non sia stato incontrato e ad un lavoro fatto con l'onorevole Cirio a livello europeo si fosse si sia si sia nella situazione in cui ci siano le condizioni per poter in tempi rapidi sbloccare la parte di progetto fuori non quello che era in galleria e di sia l'esigenza viceversa di predisporre il progetto ma anche l'impegno da parte di del dei tecnici insomma a sviluppare in tempi rapidi questo questo intervento direi che a fronte di questo proprio nei primi giorni passate le prime proprio l'insediamento come comune di Brà ho scritto una lettera al ministro chiedendo un incontro non a titolo personale ma si è formato un comitato dei sindaci del territorio e sono stata delegata a fare da rappresentante per questi per i sindaci che che è proprio in questo senso insieme al senatore per rosino che è stato il promotore della richiesta dell'incontro e all'assessore Balocco abbiamo avuto un incontro con il direttore generale del ministero incontro di cui abbiamo valutato a seguito dell'incontro di non dare comunicazioni per due ordini di motivi uno perché il direttore ci ha sostanzialmente confermato ancora una esigenza di approfondimenti e di valutazioni e quindi poiché non avevamo fatto un viaggio e a me non interessa fare i comunicati stampa per dire me ne occupo per primo me ne occupo per secondo sono la prima di essere andata non è questo il mio stile si è valutato insieme agli altri due esponenti politici di attendere un incontro che in quel contesto è stato richiesto anche con il ministro per poter valutare le proposte che nel frattempo si dice sarebbero state approfondite e presentate capite che avremmo potuto fare un comunicato stampa in cui potevamo dire di essere andati e aver incontrato una persona che ci diceva che sull'argomento doveva ancora proprio prendere in mano il dossier esaminarlo e poiché non ci interessa non ci interessava oggi la situazione è leggermente diversa non ci interessava polemizzare con alcunché poiché l'esito dell'incontro era un esito assolutamente interlocutorio c'era una disponibilità a rivederci dopo qualche tempo con dei dati concreti credo che bene abbiamo fatto a non fare alcuna comunicazione né io né Balocco né Perosino nelle rispettive sedi hanno dato comunicazione di questo incontro cosa che viceversa avrei fatto come ho fatto sempre quando ci sono delle delle iniziative delle notizie eccetera si con nell'HP gruppo nei vari punti dell'HP gruppo si dà una informativa relativa oggi mi sembra che la situazione sia leggermente diversa intanto il ministro ha la legittimità di incontrare chi meglio crede però io credo che sia veramente un gesto di grave scortesia istituzionale non incontrare i rappresentanti del territorio non incontrare il presidente della giunta regionale e incontrare esponenti del suo partito legittimo incontro ma credo che la continuità istituzionale impone un altro approccio su problematiche di questo genere questo è il mio pensiero detto questo detto questo io credo forse ho già parlato anche più del necessario chiudo qui perché io credo che questo argomento debba essere oggetto di una grande attenzione e di una grande mobilitazione perché noi oggi siamo con le carte in regola per poter andare avanti ed ottenere l'asticuneo non siamo basta mi fermo e poi eventualmente proseguiremo la discussione grazie al sindaco e il consigliere somaglia la repica prego signor sindaco la ringrazio per l'esposizione che ci ha fatto io parte di quello che ci ha detto lo conoscevo per i per i contatti che noi tutti abbiamo con esponenti dell'amministrazione un conto sono i contatti che noi abbiamo un conto è dire che i contatti siano preferenza in certi posti e allora sono d'accordo con lei che questo argomento richiede un'attenzione particolare la stessa attenzione che noi mi permetto così di accomunarci che qualche anno fa ci occupavamo già di amministrazione abbiamo messo circa vent'anni fa con un'occupazione simbolica della prefettura con la mobilitazione dei cittadini che portammo in regione Vacheri a fermare il traffico con rischi di incolumità anche personale perché comunque un'interruzione del pubblico e noi c'eravamo allora l'essere qui dopo vent'anni o ventitré ventiquattro anni a riparlare delle stesse cose quando forse eravamo giunti al termine di questa annosa vicenda e veramente fa pensare ecco ma e allora secondo me è opportuno che su questo argomento ci siano delle prese di posizione ferme e alla luce di questo noi i proponenti richiedono come previsto dall'articolo 75 del regolamento del Consiglio Comunale di trasformare la nostra interrogazione in una mozione affinché la voce dei amministratori di Brama tramite noi dei nostri concittadini che rappresentiamo vada nelle sedi opportune ecco questa è la nostra richiesta allora grazie consigliere Sommaglia lei ha citato l'articolo 75 in effetti l'articolo recita così qualora l'interrogante non sia soddisfatto se intende promuovere una discussione o una votazione può chiedere che l'interrogazione venga trasformata in mozione in tal caso la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva salvo che il Consiglio Comunale non ne disponga subito a richiesta del proponente e a maggioranza la discussione quindi è contemplato dall'articolo 75 questa possibilità pertanto il Consiglio si deve esprimere sulla proposta del consigliere Sommaglia e qualora la proposta sia accolta io dispongo che subito si discuta di questa mozione facendo la tara diciamo così congelando il tempo delle interrogazioni che è partito alle ore 19 quindi sono 40 minuti un'ora e 30 avremo poi ancora 50 minuti di tempo per chiudere le interrogazioni questa è la procedura prego Consiglio aggiungere solo una cosa Presidente noi richiederemmo che la discussione avvenga subito anche perché ho notizia che il giorno primo agosto e il giorno due agosto verranno convocate le commissioni competente e in quella sede verrà richiesta una risposta al Ministro Toninelli quindi riterrei opportuno che la discussione avvenga nella seduta di questa sera e non nella prossima seduta del Consiglio a tal proposito noi abbiamo stilato una bozza di proposte di emozione sul quale aprire la discussione se posso io la faccio avere e mi rimetto ovviamente alla decisione del Consiglio benissimo grazie mille questa è proprio la procedura esatta adesso acquisisco il testo però gli errori si correggono e adesso il Consiglio deve decidere la trasformazione dell'interrogazione in emozione appunto e quindi è la discussione immediata quindi chiedo che il capigruppo a questo punto si esprimano sulla richiesta del Consigliere Somalia io in questo momento interrompo il conteggio dei minuti delle interrogazioni quindi abbiamo ancora 50 minuti per chiudere le tre interrogazioni rimanenti quindi prego il Consigliere Ferrero prego quindi a nome della maggioranza parere positivo alla trasformazione dell'interrogazione in emozione e anche alla discussione subito immediata grazie va bene grazie al Consigliere Ferrero quindi la maggioranza si è espressa il gruppo di Forza Italia ovviamente si è espresso implicitamente il gruppo di Consomaglia per Brassi è espresso mancano ancora due gruppi Consigliere Allasia prego grazie Presidente io devo dire che come ho avuto modo scusa scusa sulla parte questa discussione riguarda la procedura ovviamente grazie non ovviamente non è in discussione ovviamente la trasformazione perché quello bontaloro è onere e onore dei proponenti sulla questione di urgenza che porterebbe il dibattito all'adunanza odierna piuttosto che a quella successiva alla presente come avevo già manifestato in conferenza capigruppo io ritengo che tutto questo sia un gran rumore che in questo momento viene fatto da praticamente tutte le forze politiche e penso che questo appellarsi a una situazione d'urgenza sia mistificatorio della realtà ne parleremo sicuramente più avanti durante la discussione della mozione perché penso che il consiglio sia favorevole a discutere seduta stante la proposta di mozione come dicevo in conferenza capigruppo nel respingere la proposta di mozione che era stata portata mercoledì scorso in consiglio ritengo che tutte queste siano azioni strumentali ma non mi sottrarrò certamente alla discussione sul merito della mozione indipendentemente dal concetto di urgenza o meno grazie grazie a lei consigliere consigliere tripodi prego grazie presidente partiamo dal presupposto che la questo questo discorso questo argomento di asticuneo penso che abbia carattere di urgenza da 30 anni 20 anni ma quando hanno detto che avrebbero fatto l'asticuneo era già urgente perché quindi siamo assolutamente d'accordo a modificare a discutere a comunque dare vita alla proposta del consigliere somaglia ci fa pensare semplicemente che la maggioranza si accetta il carattere di urgenza vuol dire che la sua attività in questi anni poco è stata efficiente poco è stata efficace perché ricordo che non è dal momento in cui è cambiato il governo in cui c'è un governo diverso da quello che vi era qualche mese fa e l'urgenza c'era sempre l'assicuno non era partita le problematiche c'erano quindi mi fa piacere che questa amministrazione accetterà il carattere di urgenza perché era un'urgenza che vi era già nel passato ma forse nel passato non si dava questo peso perché al governo forse c'era qualcun altro grazie al consigliere trepodi quindi i gruppi si sono espressi e pertanto io faccio metto i voti la proposta del consigliere somaglia di trasformazione e la discussione immediatamente conseguente alla votazione quindi segnaliamo dunque dovremmo essere in quattordici dico bene perché il sindaco si è assentata quindi va bene possiamo votare votazione chiusa quindi la richiesta del consigliere somaglia è approvata con undici voti favorevoli un voto contrario e due voti di astensione allora se apriamo la discussione il consigliere somaglia ha il diritto ovviamente di nel frattempo io mentre lei la illustra faccio fare le copie o le serve la copia benissimo allora facciamo fare una venti copie venti copie grazie prego prego consigliere somaglia va bene si si aspettiamo le copie va bene quindi sospendiamo tre minuti il c'è Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti.